5 marzo 2013, tanti auguri a Edoardo, Ugo, Gori, quanti sono? Sono 23, si sta invecchiando. È banale come domanda, lo sappiamo, ma cosa ti piacerebbe ricevere come regalo pensando anche alla partita contro l'Inghilterra? Sarebbe bella una bellissima prestazione e magari una vittoria contro l'Inghilterra. Sappiamo che sarà difficilissimo, ma sono sicuro che anche i ragazzi vogliono farmi un bel regalo quest'anno. E oggi come lo festeggerai qua? Se lo festeggerai con i compagni di squadra? Sì, oggi ci troviamo stasera dopo cena con una torta, il solito canto di tanti auguri e il soffio delle candeline. Poi purtroppo siamo in radune e non possiamo fare nient'altro. Sarebbe bello andare a bere una birra tutti insieme, ma dovremmo rimandare. Il solito discorso, il solito canto, tanti auguri o c'è qualcosa che magari non si può dire? No, il solito canto di tanti auguri, altre cose rimangono nello spogliatoio. Tornando seri, pensando alla partita contro l'Inghilterra. Dopo la partita contro il Galles, voi in mediana siete finiti anche un po' nell'occhio della critica per qualche scelta. Come la state vivendo questa settimana, magari di riscatto anche personale, considerando quella partita? Sì, sicuramente la maggior parte delle pressioni sono levate su di noi, perché è vero che la partita non è stata gestita nel modo giusto a livello tattico. Noi stiamo lavorando su questi punti tutti insieme e abbiamo bisogno di tutta la squadra e di tutto il supporto dello staff. Sicuramente cerchiamo di avere un riscatto contro l'Inghilterra e proveremo a dare il nostro meglio. Ma come mai ci sono stati questi problemi contro il Galles? Se vogliamo trovare delle responsabilità, a chi le imputeresti? Buttare il dito a qualcuno non è mai giusto. Sicuramente la mediana, io e Chris, abbiamo la maggior parte di responsabilità, perché la partita la gestiamo noi. Per cui sono stati alcuni errori nostri, soprattutto a livello di gioco al piede non è stato preciso. Per cui una partita con così tanta pioggia e con così poca possibilità di giocare, se non gestiamo bene il gioco al piede diventa tutto molto più difficile.